Sto facendo un esperimento di ripresa con delle lenti aggiuntive alla Blocchi Sony che permette di riprendere meglio la scritta di quanto viene la visologia infantile, i vari tipi di sezioni questo, il bafferino, 154, youtube, youtube, con la voce, eccetera senza lenta aggiuntiva, anche dopo se si scese, senza doppia lenta aggiuntiva probabilmente è a riprendere un po' soddisfacente Grazie a tutti vedete, è la casa di Paperino dove tutti svolgono i loro compiti con diligenza perfino i nipotini di Paperino ma erano qui un momento fa dove saranno finiti quei molelli? Aha, stanno giocando a presto 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 Poco più tardi Fermo! Se permetti vorrei presentarmi Sono la voce della psicologia infantile Sono qui per spiegarti il metodo moderno per ottenere la loro collaborazione Primo, partecipa ai loro gioco Diventa un amico, uno di loro Chiaro? Coraggio, vai No, paterino, tu Finisci in mare Ma no, sciocco Il concetto lo hai capito Ma sei troppo portato Ma il peggio doveva ancora arrivare E giunse sotto le sembianze di un circo Poglioni, pigri e con tanto di veri cannibali in carne ed ossa Poglie 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 Assupo Poglie 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 Uga! Psst, ehi! Guarda! Stavolta gioca nei cannibali! Con la scusa del fuoco e del pentolone puoi farti tagliare la legna! Allora fai l'indifferente così! Fingi di non vederli e mi raccomando, stai al loro gioco! Poi andiamo! Ehi, è la tua occasione. Per cucinarti devono prima tagliare la legna, capito? Ora sì che la doniamo! Ma dall'altro lato del coltile... Ehi! Bruciare vivo! Prendere legna! E fatta! Ora avrai abbastanza legna per tutto l'inverno! Ha sparito! Eccolo là! Forza! Oh, issa! Oh, issa! Come tu? Tre indiani più tre cannibali? Farebbe... Tu hai sei nipotini? No! Sono cannibali veri! Oh... Annibali! Che andate? Che andate! Ouh! Che andate! Che andate! Che andate! Che andate! Visto che funziona la mia psicologia moderna, la tua psicologia, la mia psicologia, che differenza fa? Il quadrato successivo è 138. Il quadrato successivo è 138. Svegliati, paparino, svegliati. È tempo di svegliarti, devi alzarti. Ehi, non fare lo stupido. Avanti, torna a dormire. Su, avanti, paperino. Paperino. A più tardi. Paperino. Sbrigati. Farai tardi a scuola. Muoviti. I tuoi libri, paperino. Avviamoci a scuola. Forza, andiamo a pescare. Che torno, che buona. Posso perdere i libri, non andare a scuola. A fuori. Se mi ha fatto buona, non ci sono, non potete fare una scuola. Ehi, che ne diresti di fumare? Coraggio, fuma. Così diverterai un vero uomo. Non avrai paura, vero? Che c'è un po' 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 po'. Alla me. Ti faccio vedere io come fuma un vero uomo. Listo? Ora prova tu. Tu fumi come un bambino. Forza, fai una bella boccata. Che ti prende? Non lo sopporti? Fai un'altra boccata. Sì, uomo. Continua, ragazzo. Stai andando benone. Ragazzo, sei così divertente, sapessi? PAPERINO 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 Non aver paura. Non intendo combattere. Così non puoi combattere, eh? Guarda, che si vede la sottoveste. No, basta. Perché non ne discutiamo? PAPERINO Questa è l'ultima goccia. PAPERINO 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 Grazie a tutti. Prima tu, paperino. Grazie a tutti. Halloween, Halloween, è la notte di Halloween, schiaccia subito tuo freddoci, o farai una brutta fine. Halloween, Halloween, è la notte del terror. Puoi buscarti un secchio d'acqua, se lo offri con amor, se il fantasma che ti suonerà, la coppetta non vedrà, gli incubi che tu avrai saranno la realtà. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ma che razza di fantasmi sono questi? Ma che razza di fantasmi sono questi? Ma che razza di fantasmi sono questi? Oh, guardate, è una vera strega! Oh, fantastico, che meraviglia! Voi credete alle streghe? Splendido, splendido! Per se può vieni, voglio farti un regalo. Vi aiuterò a prendere i vostri dolci. Il mio nome, signore, è Nocciola. Strega, Nocciola. Ah, sì! Quel furfante più amato è più duro di quanto avessi immaginato. Orso, venitemi vicino. Ora, in 448 gli organizzeremo un bel tiro mancino. Allora mi serve un gran calderone. Giugiole, lapilli, fatica e guai. Il calderone bolli come non mai. Occhi di rospo e lingua di serpente. Di questi papi si pentirà il parente. La parola è il mente potente che se la ricorderà per un bel denso. Colla di bottiglia, coda di caprone. E per finire, un bello ombrico che inneschi la pozione. Eccolo qui, Nocciola! Ah, raccapricciante. Che reazione maleficamente suggestiva. Ragazzi, quella roba è davvero esplosiva. Ehi, accidenti! Ragazzi, questa sì che è divertente! Forza, benessi buoni! Buona! Halloween, Halloween, è la notte di Halloween. Se ti fanno un micantesimo, la casa si tingerà. Tingerà, di verde si tingerà. La casa si tingerà. C'è un fantasma, ecco un plasma. Che svolazza su e giù. E se il cacello vuoi far funzionare. Oh, Pollo, possiamo farlo? Halloween, 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 Halloween. È la notte di Halloween. Ma se il fantasma che verrà, la tua fetta non vedrà. I brutti sogni che farà. Sarà il dolore. Allora, ci vuoi dare i dolci? Oh, no! Visto, ragazzi? In fondo vostra azione non è altro che un pollastro. Oh, no! Ecco! Ah, sì! Ancora la città, va! Questo scherzetto mi costringe a prendere dei provvedimenti, pollastro! Adesso le tue zampe io spruzzo a dovere e a che dietro in poi sia nel mio potere! C'è, troppo mai questa! Sarà un bel! Tirate fuori quella chiave! Che ritmo, forza! Palla con i piedi, più selto che puoi! Che spazzelli più forte! Mio cavolo! Oltre la mezzopettata di qua e di là! La chiave della porta vedrà che uscirà! Ora, sembri un babbeo di recalci come se fosse a rodeo! Su, vieni, mio caro! Dai, vieni con me! Questo bel gatto se è per te! Accendi il fuoco, un bel bacalà! Finisci il ballo e siete di là! Ecco fatto, ragazzi! Adesso mi hai fatto davvero arrabbiare! Di un potente incantesimo scorso questo terminotto! E la porta si aprirà, grazie a loro! E gli botto! Un altro po' di fozione gli darà più cipiglio! Orso, prendi un po' di rincorsa! Diciamo, presa poco o meglio! Ehi, guardate, ragazzi! Eccolo che parte! Ero sicura che alla fine mi avrebbe dato retta! E' riuscito, bravo! E' riuscito, babberino! E' riuscito, bravo! Vieni, Belzebu, è ora di andare! Sai che abbiamo un calderone di cose da fare! Ciao, ciao, ragazzi! Ciao, la! Ciao, ciao! Oh, e se il fantasma suonerà E l'offerta non vedrà Gli incubi che tu avrai saranno la realtà Questo è l'esempio di tre video di Walt Disney Classics In cui abbiamo messo una lente planiforme davanti E' un filtro plurale verticale orizzontale per ogni lente E poi abbiamo posto la ripresa a una distanza Più svelto, babberino! No, non c'è un caldo Non c'è un caldo Non c'è un caldo Non c'è un caldo Con questo l'esperimento è finito, vi saluto. Grazie a tutti.